Aspetta, ma ecco Messi davanti al portiere, il portiere la prende ed ecco qui che gli caga in testa, questa dimensione di nome, Xabi Alonso caga in testa al suo portiere, rivediamo tutto. Qui ancora Messi che va avanti a grandissima velocità, il portiere la para, però all'improvviso Xabi Alonso caga in testa, però poi continua, continua, non è finita. Quando si gira la visuale, Messi lo zucchi a reina, ecco però in questo momento sta vomitando ed ecco qui un video porno di pezzo, guardiamolo insieme di nuovo, ecco che io la zucchia con tutta la sua potenza Messi, ed ecco qui.